Dopo la classifica Time Site Education che ha posto l'Ateneo Salernitano nella top 400 fra quelli mondiali, decimo in Italia e primo al sud, arriva un'altra conferma per l'Università degli Studi di Salerno con la classifica Shimago 2017. Shimago ci posiziona nelle prime 400 e abbiamo avuto un'ulteriore crescita anche sull'altra classifica Civur, stiamo parlando delle classifiche internazionali, ovviamente fa crescere il senso reputazionale, fa crescere l'interesse nei confronti del nostro Ateneo che stiamo alimentando anche attraverso un portale fatto molto bene, un multilinguismo, che stiamo alimentando attraverso delle guide dello studente fruibili sia cartaceo sia online nelle diverse lingue, in italiano, in cinese, in inglese e in spagnolo, che stiamo alimentando, aumentando l'offerta formativa in lingua inglese. Noi abbiamo oltre 200 insegnamenti che oggi sono fatti esclusivamente in lingua inglese e 14 corsi di laurea a doppio titolo. Il ranking Shimago è basato su indicatori relativi alla ricerca, all'innovazione e all'impatto sociale. Nell'edizione 2017, sul totale delle università mondiali, sono state preselezionate 5.250 istituzioni, di cui 2.966 corrispondenti al settore dell'istruzione superiore. L'evoluzione delle posizioni occupate dall'Ateneo salernitano negli ultimi 5 anni vede Unisa avanzare nella posizione 567 nel 2012 e alla posizione 479 di quest'anno, collocandosi nella top 500 delle istituzioni mondiali. Facendo riferimento a livello nazionale, l'Università di Salerno passa dalla posizione 31 del 2012 a quella 19esima di quest'anno. Ovviamente questo sta creando interesse con frutto del nostro Ateneo. E i numeri parlano da soli perché ovviamente siamo cresciuti come accordi internazionali con l'Università, siamo cresciuti come studenti che vengono a studiare da noi e di quelli che vanno fuori. Nonostante le crisi internazionali e i fenomeni di terrorismo che comunque hanno creato qualche ambascia e nonostante il fatto che siamo comunque fuori da una città attrattiva direttamente dal punto di vista turistico.